Ci eravamo lasciati qualche mese fa a raccontare l'incidenza della componentistica all'interno dei mezzi agricoli di ultima generazione e di quanto siano spesso questi componenti premium a sancire l'evoluzione di una macchina rispetto allo standard di mercato. E quando si parla di componentistica che aumenta il valore aggiunto tecnico di una macchina non si può che pensare a Bosch Rexroth. Oggi parleremo proprio di una collaborazione straordinaria tra Bosch Rexroth e Caffini che hanno creato qualcosa di davvero rivoluzionario nel segmento della lotta con l'irrorazione semovente. Parliamo dello Sprayer Striker ST. Caffini ha lanciato una nuova gamma di irroratrici pensate per una protezione avanzata delle culture in campo aperto. I nuovi Stryker ST sono stati sviluppati con il produttore leader per la componentistica elettroidraulica e i software di ultima generazione a dare un risultato che è quello di una macchina già all'avanguardia che è stata ulteriormente sviluppata nella direzione del precision farming. Ma in che modo Bosch Rexroth permette di migliorare l'efficienza e la sostenibilità della semovente di Caffini ovviamente massimizzando l'erogazione del fitofarmaco e riducendone al minimo lo spreco. E tutto questo capita grazie a componenti che passano come sempre inosservate che rappresentano un team in grado di lavorare sotto traccia e dietro le quinte ma che finisce per fare la differenza. Parliamo ad esempio del software AG Drive di Bosch Rexroth integrato nei motori a cilindrata variabili che consente di raggiungere velocità operative fino a 25 chilometri orari e il trasferimento su strada fino a 50 orari. Inoltre il sistema Traction Force Distribution ottimizza le performance su diversi terreni adattando la trazione alla pendenza. La trasmissione tra l'altro è stata completamente rivoluzionata non parliamo più di motore a ruota ma di motoriduttore cioè un riduttore meccanico con motore idraulico a portata variabile. Con il modello precedente di trazione avevamo al massimo due cilindrate fisse. Ora grazie al nuovo modello di trasmissione Bosch Rexroth su ogni ciclo motore c'è una variabilità lineare da 0 a 100 che permette di gestire in maniera selettiva la trazione su ogni singola ruota. Non solo prestazioni elevate ma anche attenzione ai consumi grazie alla modalità Eco Mode. Il sistema regola automaticamente i giri del motore in base alla potenza richiesta riducendo così i consumi e aumentando l'efficienza. C'è poi il joystick 4T HEC di Bosch Rexroth che permette un controllo intuitivo e preciso in ogni condizione garantendo una gestione ottimale di tutta la macchina. Il joystick dedicato alla movimentazione è adattativo e tale caratteristica permette una regolazione molto fine di 0,5 km orari ad ogni impulso sulla cloche. Ma non è tutto girando la leva di comando a sinistra si comanda una frenata programmata con una rampa di decrescita molto lenta che evita il bloccaggio delle ruote. Dal lato destro invece si innesca un bloccaggio molto rapido che garantisce una decelerazione pari a 5 metri al secondo quadro. E non poteva mancare infine un sistema di interconnessione quello di Bosch Rexrothel l'IoT Bodas che permette di verificare da remoto tutte le funzionalità della macchina. Grazie a Bodas tutte le funzioni sono connesse con l'ufficio tecnico per cui si riesce a dialogare con la macchina non solo per quanto riguarda gli alert che vengono dati ma anche per andare a verificare i parametri di funzionamento ed elaborare grafici delle funzioni di campo. E per il futuro? Caffini e Bosch Rexroth stanno esplorando le potenzialità dell'elettrificazione nel segmento off-away per i trattamenti fitofarmaceutici e la gamma di soluzioni E-Lion di Bosch Rexroth potrebbe rappresentare il prossimo grande passo verso una maggiore sostenibilità senza sacrificare la produttività.